Questa potente sequenza di codici universali che ascolterai a breve attraggono nuovi clienti per la tua attività oltre che attrarre nuove opportunità e nuove idee di successo. Segui questo file una o due volte al giorno almeno per 33 giorni in qualunque momento della giornata. Se non sai cosa sono i codici sacri ti invito a guardare il mio video completo dove spiego come seguirli e come funzionano. Inoltre ti consiglio anche la pulizia energetica di 9 giorni dei codici sacri poiché questa andrà ad aumentare l'efficacia di questo audio. Link di entrambi i video qui sotto. Iniziamo. Con tutto il mio potere di manifestazione attivo il codice sacro 71588 La mia attività è continuamente in crescita piena di clienti. Arrivano a me opportunità meravigliose che mi portano grande prosperità e gioia nella mia vita. 71588 Nuovi cammini si aprono a me ora 71588 Attraggo a me tutta la prosperità che per diritto divino mi corrisponde 71588 Nuovi clienti arrivano continuamente per la mia attività 71588 Tutte le porte si aprono di fronte a me 71588 Sono la creatività e idee di successo in azione 71588 71588 Il mio infinito potere attira nuovi clienti 71588 Ora si risolve qualunque ostacolo per la mia attività 71588 Mi godo una vita piena di successi e benessere per la mia attività 71588 L'energia delle opportunità si radia in me costantemente 71588 La mia attività è prospera e stabile ora e sempre 71588 Mi godo la mia attività che mi dona stabilità costante 71588 71588 Tutti i miei sentieri sono sempre aperti a nuove idee e opportunità 71588 Mi godo delle nuove opportunità commerciali che mi si presentano ora e costantemente 71588 71588 La mia creatività si espande senza limite 71588 Ho fede e ringrazio per la prosperità che arriva a me ora 71588 Tutte le porte si aprono per connettermi con l'essenza divina e la stabilità 71588 Le mie vendite e i clienti aumentano costantemente 71588 71588 Approfitto positivamente ogni porta che si apre di fronte a me 71588 Vivo in pace, in allegria, amore e gratitudine 71588 Apro la mia coscienza nel vedere i regali che la vita mi offre 71588 L'universo è sempre con me in ogni momento 71588 La mia attività trova i mezzi per la stabilità in tutte le aree della mia vita 71588 Elimino ogni tipo di limite, blocco che mi impedisce di progredire Lo elimino ora 71588 Le circostanze che si verificano per la mia attività sono sempre le migliori in ogni momento 71588 Attraverso un periodo di espansione commerciale 71588 Ringrazio il flusso continuo dei miei nuovi clienti 71588 Ogni momento ricevo opportunità perfette per il mio business 71588 71588 La mia attività si espande offrendomi stabilità economica continua 71588 Libero la paura e la trasformo in fede, fiducia e gratitudine 71588 Lascio andare i miei schemi di pensiero limitanti e approfitto di ogni reale opportunità che mi si presenta 71588 71588 Sono una calamita per attrarre nuove opportunità e clienti 71588 L'etica è la base della mia attività 71588 Elimino le barriere che mi limitano in questo momento 71588 71588 Attrago nuovi clienti in ogni momento e in qualunque luogo 71588 Amo il servizio che offre la mia attività 71588 Visualizzo sentieri aperti, positivi, di grande espansione 71588 La mia attività mi offre una base solida e stabilità costante 71588 Rispetto all'ordine universale che è sempre in equilibrio 71588 Gli ostacoli si dissolvono e la mia attività cresce e si espande 71588 Vivo il momento presente con coscienza delle opportunità commerciali 71588 Creo e accolgo opportunità magnifiche 71588 La mia attività è continuamente in crescita 71588 71588 Io sono il cammino La verità è la vita Co-creo stabilità in tutte le aree 71588 Grazie, grazie, grazie Il codice sacro è attivo nella mia vita Commenta attivati 5 volte se realmente vuoi manifestarlo E lascia la tua esperienza dopo i 33 giorni Inoltre, se decidi di metterti alla prova E praticare con frequenza questo esercizio E vivere al massimo l'esperienza di questo codice sacro Puoi posizionare la piramide Gliux di Vitia Nel palmo della tua mano dominante Questa aumenterà drasticamente le tue vibrazioni Verso la prosperità e l'abbondanza Sia a livello conscio Ma soprattutto inconscio Link della piramide qui sotto Questa aumenterà drasticamente le tue vibrazioni